come sarà il paradiso cosa faremo davvero in paradiso molte persone ora immaginano come un luogo misterioso quasi come un sogno una realtà evanescente sulle nuvole ma le cose non stanno affatto così il paradiso è un luogo e una condizione spirituale di gloria ma ciò non toglie il fatto che vi sarà anche la materia e le scritture ce ne parlano attraverso immagini e simboli e ce ne parlano chiaramente quando si parla della risurrezione il paradiso cominciamo col dire che è un luogo di gioia beatitudine bellezza indescrivibile pieno di attività gloriose che riempiranno la nostra anima di lettizia di gioia di estasi avremo secondo la bibbia corpi fisici reali alla risurrezione ed immortali in paradiso non saremo spiriti o fantasmi la bibbia infatti afferma che la nostra patria è in cielo da dove aspettiamo anche il salvatore nostro gesù cristo il quale trasformerà il nostro umile corpo rendendolo simile al suo corpo glorioso ciò indica che avremo dei corpi come quello di gesù e che tipo di corpo aveva gesù alla sua risurrezione disse ai suoi discepoli guardate le mie mani e i miei piedi sono proprio io toccatemi e guardatemi uno spirito non ha carne ed ossa come potete vedere che io ho gesù quindi dimostra chiaramente di avere un corpo fisico umano reale e anche noi avremo lo stesso in paradiso nelle parole dell'apostolo paolo troviamo anche scritto che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di dio quindi si tratterà di un corpo glorioso spirituale come cristo risorto che sfida le barriere fisiche la bibbia ci dice inoltre come gesù mangiò con i suoi discepoli dopo essere risorto offrendoci una visione meravigliosa di ciò che ci attende nell'eternità con dio abbiamo dunque compreso che non si tratta solo di un'esperienza spirituale ma altresì di una esistenza fisica mangiare sentire fanno parte del nostro vivere fisico e avremo questo rapporto con dio e con gli altri mangeremo dell'albero della vita in apocalisse 2 verso 7 gesù promette a chi vince darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di dio ovvero sarà garantita la nostra permanenza e vita in perpetuo dio non mancherà di offrire la diversità di bellezza e di piacere ogni mese ogni stagione porterà una nuova sorpresa un nuovo sapore da scoprire e questo rivela molto sulla ricchezza la grandezza di dio che si prende cura di noi offrendo sempre il meglio e rinnovando del continuo le sue benedizioni ciò significa in altre parole che nel nuovo cielo nella nuova terra nella condizione paradisiaca non ci saranno più contese malattie o dolori o qualsiasi tipo di sofferenza come le divisioni le tristezze afflizioni di nessun genere e le ferite e le sofferenze che affliggono l'umanità qua giù saranno completamente guarite dio ha un piano di restaurazione di rigenerazione non solo per gli individui ma per tutta la creazione intera cammineremo per le strade d'oro nella nuova gerusalemme tutto sarà gloria e splendore ci avvicineremo a quel fiume di acqua viva in quel fiume di acqua chiara come cristallo e vedremo quell'albero meraviglioso cibandoci da esso tutto ci parla di vita vera vita vita in pienezza guardandoci intorno vedremo persone redente di tutte le nazioni e tutti i popoli uniti sani e felici non c'è più tristezza lacrime o dolore tutto questo perché l'eterno ha mantenuto le sue promesse possiamo soltanto immaginare lontanamente la grandezza e la bellezza e il sapore di questi frutti celesti non solo vivremo per sempre ma non ci sarà più dolore né depressione né noia né lutto e morte e peccato nel regno eterno di dio ed ele asciugherà ogni lacrima dei loro occhi tergerà ogni lacrima non ci sarà più morte né lutto né pianto né dolore perché le cose di prima sono passate la promessa che dio asciugherà ogni lacrima porta una grande consolazione un grande conforto quante volte abbiamo pianto in questo mondo sia per dolori fisici malattie mancanze incomprensioni sia per afflizioni del cuore ecco la garanzia che dio asciugherà ogni lacrima riempi i nostri cuori già da oggi di allegrezza le cause le radici del nostro pianto morte perdita paura dolore saranno estinte come se non fossero mai esistite la vecchia situazione di peccato e delle sue conseguenze devastanti daranno spazio a una nuova realtà meravigliosa ed entusiasmante dove giustizia pace e gioia saranno piene interrotte questo dovrebbe farci riflettere sull'immenso valore della vita che dio ci offre non solo nel futuro celeste ma anche qui ed ora viviamo infatti nella speranza e ci prepariamo per questo incontro ci avvicineremo al cuore di dio e contempleremo gesù faccia a faccia dimoreremo nella nostra vera casa dove vivremo per sempre nella sua gloriosa presenza la comunione la gioia saranno perfette ed eterne e ritroveremo coloro che ci hanno lasciato sarà uno dei momenti più emozionanti gratificanti non ci saranno più addi separazioni dolorose o lacrime di tristezza solo pura gioia e comunione eterna ognuno di noi avrà anche una dimora preparata appositamente per ciascuno di noi dal dio dell'universo nella casa del padre mio disse gesù vi sono molte dimore se non fosse così ve l'avrei detto ecco vado a prepararvi un luogo e quando sarò andato vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi alla luce ora di questa promessa di gesù così esplicita e generosa noi possiamo aspirare ad un futuro in cui vivremo nella pienezza e nella gioia eterna è evidente che l'amore la provvidenza di dio ci farà trovare una casa che sembra essere stata preparata appositamente per noi dio dunque ci dà una meravigliosa ed indescrivibile prospettiva di eternità mentre viviamo i nostri giorni sulla terra affrontando le sfide le prove e cercando un senso ecco alle situazioni che noi viviamo considerando che dio ha preparato un luogo per noi in cielo questo ci dà una grande speranza e direzione nella nostra vita ci ricorda che la nostra vera casa non è qui e che le nostre lotte e sofferenze avranno una fine possiamo camminare dunque in pace verso una realtà più gloriosa e perfetta pertanto la promessa di gesù di preparare un luogo per noi è un invito a vivere con una speranza viva e con gli occhi rivolte all'eternità ma anche nel cercare una relazione ancora più profonda con nostro padre celeste qui sapendo di essere così amati e che il nostro futuro è garantito ed è nelle sue mani d'amore sapere questo sapere di avere una dimora eterna preparata da dio dovrebbe motivarci a vivere in modo riconoscente e lieto nonostante le problematiche che effettivamente ci sono qua giù per riflettere questo amore questa speranza al mondo intorno a noi mentre camminiamo su questa terra dovremmo sempre ricordare che la nostra vera casa la nostra destinazione ultima finale è un luogo luminosissimo di bellezza e di pienezza incomparabile di vita preparato da dio dove saremo pienamente conosciuti amati desiderando far conoscere anche agli altri questa verità così che pure loro con noi possano parteciparvi un giorno chi ha cristo ha la vita eterna che questa benedetta promessa ci riempia di gioia pace e scopo guidando i nostri passi ogni giorno lungo e non sempre facile cammino della nostra vita affinché non ci perdiamo d'animo e non perdiamo la speranza ma piuttosto rinfrancati da lui dalla sua grazia consideriamo la meraviglia futura che è stata preparata per ciascuno di noi che dio ci benedica